Cominciamo? Pronta per un'avventura? Sempre. Per capire questo... dovrai imparare a vedere... Esattamente tu che proponi. Si va in scena! Bene, si parte! Howard, la sai pilotare? Scherzi, sono un papero, sono nato per volare. La cintura! Spostati! Se ne uscissimo sconfitti... il mondo resterebbe indifeso. Questa è un'occasione per noi. Dubito che ne avremo altre. Mettiamo un punto. Siamo pronti! Avenger unito! Su quelli! Fuoco! E' qui che la tua storia... giunge alla fine. Con certi misteri, l'unica risposta è... e sì. Forse è giunto il momento di chiedere aiuto. Io sono Tempesta, Dea del Tuono! Oh! Grazie a tutti.